Questo lo bevo quando c'ho voglia, mi metto un po' più sovro, lo bevo. Collo, cosa ne pensi di questo inizio dell'anno al Casablanca? No come? Ci devono troppi bestemmi. Come ti sembra la musica? Le ragazze? Sono i Ciro, sta al posto delle gambe. E i baristi sono competenti? In Manhattan ti hanno un Red Bull. Non sei soddisfatto? Vabbè, nemmeno io. Aspetta solo il ricco buffe alle 1.30. Chiediamo invece a Davide Scinti. Lei Davide Scinti? Quali sono le sue prime impressioni di questo Capodanno? È molto bestem, è molto bestem. Bestemme addirittura? Bestemme fa cadare. Oh, e delle condizioni meteorologiche? Qualche commento? Sta a dire il solito esterno alimentare quando hai iniziato a vedere. Eh, non so. L'alternativa era il masso, con uovo di noncioletti, pasta a voi, senza pagare un cazzo. Eh, tirano i caglioli, eh. Eh, tirano stessi. Voi vedete, sono leggermente tocco. Manca poco. Cos'ha in mano il collo? Un negroni. Fatto con quattro... Quattro alcolici diversi, quindi... Purtroppo ne mancherebbe ancora uno, però il barista è troppo capace, quindi... Sarà per la prossima volta. Quattro al barista, le serali. Primo piano sul negroni del collo. Primo piano sul negroni del collo. L'annuncino del Diceo Francesco. Che inchiulata, figa. Che inchiulata. Vieni, io ho in questo posto che in interno. L'unico motivo per cui potremmo venire ancora, sai qual è? Adesso lo inquadro. E quello ci sto. A sabato pizza volontà, 11 euro. Adesso sto a rimpinzzarmi come un bastardo. Adesso collo, lei cosa dice di fare? Facciamo un giro di... Di una pista, vedere se è qualcosa di buono o... Sta che non... Non avanza di figa sto posto. Non straripa, ti sa. Che consolazione che possa andare fino alla macchina senza partire il freddo. Non tocca arrivare. Spero, no? Spero. Vabbè, dai, quindi adesso attendiamo le due per il buffet e dopo vediamo il da farsi. Dai, chiudo.